Scuola, falsi diplomi, incastrati colpevoli, certificati servivano per vincere i concorsi ATA. Oggi la svolta nell'inchiesta della procura di Avellino. Eseguite due misure. Ai domiciliari l'avellinese che intascava il denaro nella sede della CISL. Il caso denunciato da Striscia. Baby Gang assalti in stile Gomorra. Nuovi particolari nelle indagini. Ciro, il sedicenne che ha rimediato la frattura del setto nasale pestato dagli aggressori con l'orologio per tirapugni proprio come Jenny Savastano nella fiction tv. Sanità De Luca parte la rivoluzione. Il governatore ha presentato i primi risultati del suo piano. 4.000 assunzioni e 170 milioni per l'edilizia ospedaliera. Ma tra gli obiettivi raggiunti anche il pronto soccorso aperto all'ospedale del mare. Viabilità negata. Il sannio in piazza. In centinaia in corteo a Benevento per una mobilitazione generale nata per denunciare le condizioni delle strade del fortore. Siamo isolati. Hanno ribadito i cittadini che hanno dato vita a un comitato con sindaci e preti. Raccordo per Salerno in funzione l'autovelox. La Polstrada conferma da mercoledì il dispositivo di controllo della velocità installato a Montoro sarà attivo. Limite a 80 km orari. Ed è già polemica. Resta critico il sindaco Bianchino. Bevi vandali a Salerno ma era solo un gioco. Le pistole le avevamo per caso. Si sono difesi così davanti al GP. 9 giovani arrestati per le devastazioni in città. Intanto Isaia Sales chiarisce il fenomeno delle baby gang di Napoli. È diverso e più grave. Questi titoli di oggi ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 6968 Channel. In apertura i falsi diplomi ad Avellino incastrati, i colpevoli. I certificati servivano per vincere i concorsi al Ministero dell'Istruzione. Oggi la svolta nell'inchiesta della Procura. Eseguite due misure. Ai domiciliari il collaboratore sindacale che intascava il denaro nella sede della CISL. Il caso denunciato dalla trasmissione Striscia alla Notizia. Vediamo i dettagli. Diplomi falsi alla CISL di Avellino. Dopo la denuncia di Striscia alla Notizia scattano i provvedimenti della Procura. Quattro i capi di imputazione, corruzione, concorso in corruzione, falsità ideologica e materiale per due persone. Una finita ai domiciliari, il collaboratore sindacale Antonio Perillo smascherato da Striscia, l'altra colpita dalla sospensione dal pubblico ufficio per 12 mesi e il gestore di uno dei due istituti coinvolti nel rilascio delle attestazioni. Per la CISL invece non si profila alcun tipo di responsabilità. Il soggetto rocacciava questi clienti a cui offriva il prevo pagamento di un compenso, la certificazione ad alcuni corsi, in questo caso nello specifico operatore sociale e quello della patente europea del computer. Diciamo che la certificazione non era falsa, il certificato era vero ma il corso non era mai stato frequentato e quindi il soggetto non era mai stato sottoposto ad un esame. Un giro d'affari abbastanza allargato che è continuato anche dopo l'episodio denunciato dalla trasmissione Mediaset e il procuratore Cantelmo nel sottolineare come in questo momento storico. Tanta gente disposta a fare carte false pur di trovare lavoro. Sono disposte anche a svendere la loro dignità sotto il profilo della legalità. Parla di indagini ancora apertissime. Molto aperte, sono articolate anche su altri versanti e credo con numerosi altri episodi che verranno mano a mano accertati. Quindi penso che la gente faccia male a non presentarsi subito perché prima o poi sarà credo abbastanza facilmente individuata. Andiamo a Napoli. Preoccupa il fenomeno emulazione di Gomorra tra le baby gang inquietanti. Le scene al vaglio degli inquirenti in cui i giovani criminali spaccano il naso al sedicenne Ciro con un orologio. Vediamo. Gomorra continua ad essere un esempio per le baby gang. Dopo le stese ora anche le scene più violente vengono emulate e proprio quella dell'altro giorno registrata dalle telecamere di sicurezza della metropolitana Mater Dei ricorda la scena famosa della fiction dove Jenny Savastano uccide il suo commercialista con un orologio. A metterla in atto a Mater Dei è un quindicenne che si è avvicinato alla sua preda, si è sfilato l'orologio d'acciaio, lo ha capovolto e ha stretto all'altezza delle nocche delle dita della mano destra creando una sorta di tirapugni. Parliamo del pestaggio di Ciro, lo studente a cui domenica scorsa hanno spaccato il naso senza alcun motivo. La scena è risultata inquietante anche agli occhi dei più scaltri investigatori. Possibile infatti che quel ragazzo sia stato suggestionato da una scena della terza edizione di Gomorra. Intanto ora sarà il tribunale dei minori a giudicare e prendere eventuali provvedimenti. Intanto si indaga anche sugli altri episodi di violenza avvenuta nei giorni scorsi a Napoli, in particolare sull'aggressione a Gaetano, il quindicenne picchiato all'uscita della stazione di Chiaiano di Napoli. Il giovane, dopo essere stato dimesso dall'ospedale, ha detto che di quella disavventura si porta dietro non tanto l'aggressione quanto il fatto che c'erano tante persone in quel momento nel metro eppure nessuno ha avuto il coraggio di aiutarlo. Ma c'è anche chi si è pentito del fatto che ha agito con violenza. Si tratta del ragazzino che l'altro giorno ha tirato una bottiglia contro i carabinieri. Ieri ha chiesto scusa al militare ma ha detto comunque che non si pente. Una rivoluzione, ha ribadito questo concetto il governatore De Luca che questa mattina a Napoli ha illustrato i dettagli dei provvedimenti della regione in materia di sanità. Via libera al piano ospedaliero che prevede 170 milioni di euro per l'edilizia sanitaria, disco verde anche al piano per il personale con 4 mila assunzioni e la stabilizzazione dei precari storici tra cui medici e infermieri. Recuperiamo ritardi ultradecennali, le parole del governatore che poi ha annunciato i protocolli per le cliniche, i laboratori e in generale per tutto il comparto privato regionale. Saranno inoltre autorizzate decine di nuove farmacie dopo il recente sblocco delle assegnazioni, mentre per aprire uno studio odontoiatrico basterà la scia. Subito dopo affronteremo di petto un altro grande argomento che ci sta a cuore, ha concluso De Luca, ossia quello dei livelli di assistenza per la riduzione delle liste d'attesa. In centinaia in piazza Benevento per una mobilitazione generale nata per denunciare le condizioni delle strade del Fortore nel Sannio, non un semplice disagio piuttosto una condizione di totale isolamento con i cittadini che hanno formato un comitato, anche le autorità e uno dei parroci delle comunità. Maria Teresa Adeluccia. Fortore, Fortore, le strade dell'Orlore! Fortore, Fortore, le strade dell'Orlore! Denunciano le terribili condizioni della viabilità con le quali sono costretti a fare i conti ogni giorno i cittadini del Fortore che sono scesi in piazza in una marcia che da Monte Falcone di Val Fortore ha raccolto tutti in piazza Risorgimento a Benevento. Noi da anni chiediamo un'attenzione soprattutto per queste zone dimenticate. L'obiettivo nostro è prima cercare di sistemare le buche, però il comitato non finisce qua, finirà nel momento in cui noi avremo una sistemazione totale di tutte le strade della Val Fortore. Io vengo come parroco e come cittadino per sostenere la nostra popolazione che da molti anni vive queste difficoltà. Il nostro popolo, soprattutto chi passa su queste strade per venire qui a Benevento, i nostri studenti, gli ammalati, gli impiegati, hanno tante tante difficoltà. Io sono qui a nome mio, ho avvisato anche il mio vescovo, Monsignor Sergio Melillo, che ha dato la sua avvicinanza e solidarietà a queste nostre popolazioni. Cori, striscioni, campanacci e manifesti funebri per il corteo che ha raccolto centinaia di persone che dopo aver incassato il sostegno da parte del prefetto di Benevento ha sfilato sotto la rocca per portare il problema anche all'attenzione della provincia. Ora è ufficiale. Da mercoledì 24 gennaio sarà attivo l'autovelox lungo il raccordo Avellino-Salerno nel tratto tra Solofra e Montoro. La conferma arriva dalla polstrada di Avellino, a cui è affidata la gestione del dispositivo di controllo della velocità. L'autovelox è stato già installato da diverse settimane dall'ANAS. Il limite di velocità lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno è di 80 km orari, a cui verrà aggiunta, chiarisce in una nota la polstrada di Avellino la tolleranza prevista per legge pari a 5 km orari. L'attivazione dell'autovelox sta già suscitando forti proteste tra i abitanti della Valle dell'Irno. A contestare la scelta dell'ANAS anche il sindaco di Montoro, Mario Bianchino, secondo il quale l'autovelox in quel tratto di strada non serve se non per fare cassa. Andiamo a Salerno, abbiamo distrutto le auto per gioco, le pistole le avevamo per caso. Si sono difesi così davanti al GP, 9 giovani arrestati per le devastazioni in città, tutti però hanno ammesso le loro responsabilità e intanto Isaia Sales chiarisce il fenomeno degli baby gang di Napoli è diverso e più grave. Sentiamo Giovanni Battista Lanzilli. Lo facevamo per gioco, questa la versione offerta ai giudici da 8 dei 9 ragazzi arrestati ed ora ai domiciliari per una serie di ride vandalici alle auto in sosta sul lungomare di Salerno. Il giudice per le indagini preliminari, Maria Zambrano, li ha interrogati dopo l'operazione della procura che li ha incastrati, grazie anche ai video di sorveglianza dei carabinieri. Accusati di far parte di una baby gang in salsa salernitana hanno ammesso le proprie irresponsabilità nei danneggiamenti, ma sottolineando che la loro è stata una bravata e non una scelta criminale. Al giudice hanno spiegato che le pistole ad aria compressa con le quali hanno frantumato vetri, specchietti e lunotti le avevano addosso per caso, senza alcun intento premeditato, di attuare una spedizione punitiva da San Marzano sul Sarno a Salerno. Versioni che però non sembrano abbiano convinto il GIP che nell'ordinanza cautelare parlava di allarmante disinvoltura e spavalderia da parte dei ragazzi. Il fenomeno delle baby gang pare dunque essere sempre più diffuso, una vera e propria piaga che non riguarda solo Napoli, dove però gli episodi di violenza sono stati eclatanti, ma anche Salerno. Con un'avvertenza però, pur essendo state accostate per la concomitanza temporale, le baby gang delle due città sono molto diverse tra loro, come spiega Isaia Sales. È sempre successo e succederà che dei ragazzini possano immaginare di farsi valere attraverso la prepotenza o il sopruso, però per quanto riguarda il paragone con la situazione di Napoli dobbiamo preoccuparci, ma non siamo né in quella situazione. Chi riesce nella vita non è il professionista, non è chi lavora, chi riesce nella vita è colui che fa un sopruso ad un altro. Ha rapinato con un complice albanese una coppietta di italiani che si era appartata in un'area isolata di campagna, ma la reazione della vittima ha perso la testa e ha iniziato a sparare all'impazzata, ferendo a colpi di pistola il fidanzato e uccidendo il suo complice che lottava con la vittima. Dopo 24 ore di indagini, la procura della Repubblica di Napoli Nord e i carabinieri del reparto territoriale di Aversa hanno risolto con il fermo di un bulgaro di 37 anni e di un italiano di 28, il giallo del cadavere con colpi d'arma da fuoco rinvenuto nella notte tra giovedì e venerdì nelle campagne di Teverola, nel Casertano. Torniamo ad Avellino, nella villetta del dottor Ugo Masucci non ci sono tracce dell'assassino, emergono i primi risultati dai referti dei RIS sul caso irrisolto della morte del dentista avellinese. Paola Iandolo. Tutte le tracce rinvenute sugli oggetti sequestrati all'interno della villa di Ugo Masucci, il dentista ritrovato morto un mese fa, sarebbero riconducibili alla vittima e sembrerebbe che non vi siano elementi biologici riconducibili ad altre persone. Sono i primi risultati degli esami dei RIS depositati in procura ad Avellino, esami che però non chiariscono ancora la dinamica dei fatti accaduti l'11 dicembre scorso. Restano in piedi comunque la pista dell'omicidio e quella del suicidio. Per sciogliere ogni dubbio bisognerà attendere ulteriori esami, in particolare la perizia balistica e gli accertamenti sui bossoli sequestrati nell'abitazione della vittima. La procura Avellinese è in procinto di voler chiudere l'indagine ma vuole avere tutti gli elementi a sua disposizione che chiariscono il giallo della morte del dottore Masucci. I familiari non credono assolutamente all'ipotesi del suicidio come ribadito dalla figlia del dentista Anna che ieri mattina ha partecipato a un incontro con dei colleghi del padre. Lo solo immaginarlo è una follia totale, un uomo di quello spessore, di quella giovialità, una famiglia meravigliosa, di nipoti meravigliosi. È un pensiero che a noi non ha proprio toccato. Era un signore di altri tempi, posato e veramente le parole utilizzate da una persona incontrata per caso mi hanno colpito. Dice abbiamo perso un vero pilastro in città. Si aggrava la posizione di Don Alfonso Santoriello, il parroco indagato nell'ambito dell'operazione sul presunto scambio elettorale politico mafioso a Nocera Inferiore. Il sacerdote che ha subito anche una perquisizione domiciliare è stato intanto sospeso dalle proprie funzioni dal vescovo Giuseppe Giudice in attesa che le indagini vadano avanti. L'inchiesta di procure DDA ha portato alla luce un presunto legame tra politica e camorra nel quale il parroco avrebbe avuto un ruolo per il cambio di destinazione urbanistica di un terreno adiacente alla diocesi che doveva ospitare in zona Montevescovado una mensa gestita dalla Caritas. Nel mirino della procura sono finiti proprio i rapporti tra Don Alfonso Santoriello e gli ex amministratori e candidati alle ultime elezioni accusati di rispondere ai clan. Diamo a Benevento compensi stratosferici per dipendenti comunali. Nel capoluogo sannita si ipotizza un danno erariale di mezzo milione di euro. I dettagli? Ha chiesto l'acquisizione di tutti gli atti e si è riservata una valutazione approfondita per la contestazione di un eventuale danno erariale di circa mezzo milione di euro. La procura presso la Corte dei Conti, anche se a distanza di oltre tre anni dai fatti e dalla relativa denuncia, ha intenzione di chiarire ogni aspetto relativo al programma Proust-Calidone, una intesa tra apparati ministeriali, amministrazioni locali e regioni, il tutto finalizzato alla realizzazione di interventi pubblici. Il programma Calidone ha tratto finanziamenti anche a Benevento e si è protratto per diversi anni. Nel 2013 la UIL, dopo che gli investimenti avevano portato a progetti di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile, aveva sollecitato un'inchiesta. Per il sindacato alcuni dipendenti del comune di Benevento, sempre gli stessi, avevano sfruttato il programma Calidone per liquidarsi compensi stratosferici. In tre hanno guadagnato 451 mila euro, mentre per tutti gli altri dipendenti i compensi erano irrisori. La procura presso la Corte dei Conti ha chiesto una relazione dettagliata agli uffici comunali ed anche l'elenco di chi potenzialmente quei soldi dovrà restituirli. A causa di un guasto si è fermata stamattina la funicolare di Napoli che collega Montesanto a San Martino. Durante la corsa di prova, che viene eseguita ogni giorno per motivi di sicurezza, si è rotto il pantografo di uno dei due treni che ha anche provocato un inizio di incendio immediatamente domato dal personale di bordo con gli estintori. Il guasto si sarebbe verificato nei pressi della fermata di Corso Vittorio Emanuele. Siccome si trattava di una corsa di prova a bordo, non c'erano passeggeri, i tecnici della NM hanno effettuato una prima verifica per accertare l'entità dei danni e, secondo quanto si è appreso, l'intervento potrebbe richiedere tempi lunghi. Cala il sipario su Lucidartista Salerno e i commercianti chiedono al Comune nuove iniziative per attirare in città nuovi flussi di turisti. Vediamo. Con la fine dell'evento Lucidartista, che calamita l'attenzione di tantissime persone, facendo confluire a Salerno moltissima gente, si torna alla normalità alle attività commerciali e lanciano un segnale di allarme all'amministrazione affinché non le abbandoni, creando nuovi eventi che possono riportare la città al centro dell'interesse di turisti e non solo. Io suppongo che le luci non possono bastare a poter incrementare un indotto, un'attività su tutto l'arco dell'anno. È troppo riduttivo e poi forse è finalizzato a qualche attività di ristorazione e di pernotto. Le luci d'artista quest'anno non hanno portato tanto bene alla città di Salerno in quanto per l'affluenza e il traffico hanno un po' terrorizzato i salernitani in quanto ci siamo sentiti un po' schiavi, nel senso che se uscivamo da Salerno non potevamo più rientrare. Non c'è stata tantissima affluenza per quanto riguarda il commercio, viviamo di gente nostra, gente propria. Adesso il comune più di tanto non penso possa fare, nel senso che sicuramente qualche altro evento può essere positivo, può portare un po' di gente in città che non è mai negativo, magari potrebbe gestire un po' meglio la questione dei parcheggi, quello sicuramente, il senso che potrebbe essere più economici, un po' deserta ultimamente il centro di Salerno. Meglio se ci sono che se non ci fossero, insomma, quindi va bene comunque anche le luci d'artista. È chiaro che il flusso rispetto ai primi anni di questo evento è diminuito, anche posso dire in maniera abbastanza notevole, però non tale da non rappresentare più un fenomeno di attrattiva, insomma. Un diciannovenne già noto alle forze dell'ordine è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia Bagnoli in un bunker di Viale Traiano dopo aver spacciato droga a un assuntore. Il locale era video sorvegliato con microcamere montate sui muri perimetrali dell'edificio, all'interno sono stati rinvenuti 360 euro, una dose di cocaina e materiale per il confezionamento. Il padre del piano urbanistico di Avellino, Augusto Cagnardi, in città per ricordare il sindaco di Nunno a tre anni dalla scomparsa, serve una nuova etica ambientale fatta di uomini e non solo di numeri. Vediamo. Si deve puntare sugli uomini e non più solo sui numeri. Augusto Cagnardi, padre del piano urbanistico di Avellino, rilancia forte il tema dell'etica ambientale che dovrebbe essere alla base dei processi urbanistici e lo fa nel corso del convegno il territorio dell'urbanistica, organizzato per ricordare l'ex sindaco di Nunno a tre anni dalla sua scomparsa. Ho ritrovato una città urbanisticamente confusa. È tutto un po' mischiato, è tutto un po' complessivamente non è migliorato molto, anzi l'effetto del terremoto ha portato a conquistare terre per chi voleva costruire. E chi voleva costruire non sempre era animato dai migliori propositi, il più delle volte voleva solo costruire per se stesso, per far denaro. Ancor più duro il giudizio complessivo di Cagnardi sulla città, Avellino si sta lentamente spegnendo. Spenta, perché non si muove, perché non basta dire sono di Avellino per dire che sto bene. bisogna trovare il modo per cui ogni affermazione sia accompagnata dalle necessarie azioni che conducono verso quella finalità che uno si propone. Se non succede questo, se tutti dicono va bene, è così, è così, è così, non si sta fermi, si scende. E il precipizio è vicino, è vicino. E' tutto per questa edizione del nostro telegiornale, curata in regia da Orlando Matarazzo, ora ci sono le previsioni del tempo a seguire il TG Sport e dalle 17 vi ricordo l'appuntamento con Offside, il post partita di Salernitana Venezia. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.